Un giorno importante per la Polizia e per la città dell'Aquila? Sì, sicuramente è un giorno molto importante questa visita e questa cittadinanza è veramente un grandissimo onore per la Polizia di Stato. Cittadinanza onoraria dell'Aquila alla Polizia di Stato. Il riconoscimento è stato consegnato al capo della Polizia, Lamberto Giannini, in una cerimonia all'auditorium del Parco del Castello, dal sindaco Pierluigi Biondi e dal presidente del Consiglio Comunale Roberto Tinari. La cittadinanza viene conferita, come si legge nella Motivazione, per l'impegno instancabile a fianco dei cittadini, l'encomiabile sacrificio quotidiano e il coraggio sempre dimostrato, in riferimento alla tutela dell'ordine pubblico durante la pandemia, ma anche e soprattutto a seguito del terremoto 2009. In precedenza Giannini ha visitato la scuola Marielle Ventre, una delle prime ricostruite a 12 anni al sisma, per consegnare agli studenti delle medie la prima copia della pubblicazione intitolata Uno scatto in blu, libro fotografico prodotto dalla Polizia in oltre mille copie, che vuole diffondere la cultura della legalità tra le generazioni più giovani. La giornata aquilana di Giannini costituisce l'ultima uscita pubblica del questore uscente Gennaro Capoluongo, che da domani sarà in servizio a Messina, lasciando il capoluogo abruzzese dopo un anno e mezzo circa. La carica dovrebbe restare vacante per qualche giorno. Al momento non è noto il nome del sostituto, ma Giannini ha promesso che sarà all'altezza. Ci ha accompagnato e ci accompagna in questa fase difficile in cui dobbiamo conciliare le esigenze di una città in ricostruzione e il contenimento della pandemia che è sempre dietro l'angolo. Un riconoscimento doveroso, non solo doveroso, ma non per quello che hanno fatto, sono sicuro che continueranno a farlo, ma anche e soprattutto perché come l'hanno fatto, l'hanno fatto con il cuore. L'Aquila è una città che non dimentica e non lo dimenticherà mai.